Lunedì 24 luglio dal Vangelo secondo Matteo e nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché la venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone. Pretendere un segno. Quante volte anche noi ci siamo trovati nella condizione di quei iscrivi e di quei frisei che pretendono da Gesù un segno, cioè vogliono qualcosa di concreto, di tangibile, che provi quello che lui dice. Di per sé non è una richiesta sbagliata, è una conferma e tutti nella vita cerchiamo conferme. A volte però ci intestardiamo nel voler ricevere le conferme che vogliamo noi, quelle che abbiamo in mente noi, quelle che ci fanno comodo, quelle che sostengono le nostre teorie. Invece Gesù ancora una volta esce da questa logica e dà le conferme però non secondo il criterio di iscrivi e farisei, ma secondo la storia. Gesù cita due esempi dell'Antico Testamento. Il momento in cui Giona divenne un profeta e per la sua testardaggine di voler scappare, di non voler accogliere l'invito del Signore, fuggendo, fu inghiottito da un grosso pesce, rimase dentro questo per tre giorni e tre notti fino a ritrovare la vita. E intuiamo come questa storia diventa segno e paradigma del mistero pasquale del Signore Gesù. E poi l'altra vicenda, la regina del Sud che fece tanta strada per poter incontrare e ascoltare la sapienza del re Salomone. Dunque due esempi che diventano segno. E Gesù dice per due volte, qui vi è uno più grande di Salomone, qui vi è uno più grande di Giona. Riconoscere la grandezza di Gesù secondo quello che Lui è, non secondo quello che vorremmo noi. Allora, in altre parole, la parola di oggi ci invita a cogliere quei segni che Dio vuole darci e abbandonare quei segni che vorremmo noi, quelle conferme che vorremmo noi e accogliere quelle che il Signore ci vuole dare. Non è un capriccio quello di Dio di volerci donare i segni che si intende Lui. E non è nemmeno un sovrastare la nostra libertà, quello di darci quei segni, ma è quello di crescere nell'umiltà e nell'abbandono fiducioso. Dio è un Padre premuroso e provvidente che si prende cura di noi e non ci fa mai mancare ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Non il bisogno del momento, ma il bisogno della pienezza, ciò che ci fa veramente bene. Allora potremmo dire che ogni giorno può diventare una grande caccia al tesoro per poter scorgere quei segni che ancora oggi il Signore mette sul mio cammino, sul tuo cammino, sul cammino di ogni discepolo per manifestarsi, per rivelare la sua presenza e per donare il suo amore. Grazie.